Sabato 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e da Alessandria partirà un viaggio di attiviste che fanno parte del movimento Non Una Di Meno che presenteranno in occasione di questa giornata un piano. Noi sabato mattina partiamo intorno alle 5 del mattino con questo pullman che raggiungerà la manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma a cui seguirà un corteo in occasione del quale presenteremo il piano che Una Di Meno ha elaborato durante questo primo anno di attività a livello nazionale italiano. Noi riteniamo che la violenza non sia soltanto la violenza dell'uomo che picchia la donna ma ci siano diverse forme di violenza psicologica, sociale dovuta a moltissimi aspetti della vita quotidiana. E questo è un piano di rivendicazione diciamo di stampo transfemminista nel senso che non si concentra soltanto sulla realtà delle donne ma che rivendica i diritti sì delle donne in quanto esseri umani e che devono essere considerati alla pari degli uomini. Buonissimo. Allora da lei invece aspettiamo un invito per partecipare a questa giornata. Un invito che rivolgiamo soprattutto alle donne di Alessandria ma anche agli uomini che vogliono partecipare perché non è detto che non debbano esserci uomini che hanno voglia di condividere con noi questo momento. E quindi noi partiamo sabato mattina alle 5 da Piazza Garibaldi col pullman ci sono ancora dei posti disponibili per chi vuole essere. Noi speriamo di essere ancora di più di quelle che già siamo per poter così vivere con noi, crescere come movimento e essere sempre di più e sempre una marea che cresce non per fare uno tsunami ma semplicemente per far capire quanto sia importante che la donna partecipi, viva e si renda conto di quello che è il suo essere e la sua voglia di essere sempre più considerata e non essere un secondo piano. Perché comunque come si dice normalmente se non ci fossimo noi donne voi uomini non ci sareste. Ed ora un ultimo messaggio dove si può consultare questo piano? Allora questo piano si può consultare sulla pagina di Non Una Di Meno a livello di social network su Facebook altrimenti sul sito Non Una Di Meno basta digitarlo su Google e appare immediatamente. E a tal proposito invito anche a seguire la pagina Facebook dove vengono postati in continuazione articoli perché quello che noi intendiamo fare più che altro è informazione. Noi non ci concentriamo particolarmente sui fatti di cronaca che non ci interessino ma non è su quello che vogliamo fare per noi. A noi interessa informare e informare tutti i cittadini di qual è la condizione in Italia e non solo dell'universo femminile proprio perché riteniamo che dichiararsi femministi non sia... il femminismo non è l'opposto del maschilismo. Non è una guerra di rivendicazione delle donne sopra gli uomini perché non vogliamo arrivare a quello e perché non vi sarebbe una soluzione a questo problema. Feministi sono tutti coloro uomini e donne che combattono per la parità dei sessi.